Ferdinando Antonio Palasciano nasce a Capua il 13 giugno del 1815 e muore a Napoli il 28 novembre del 1891. Palasciano fu un brillante studente, all'età di 25 anni aveva già conseguito tre lauree, la prima in Belle Lettere e Filosofia, la seconda in Veterinaria e la terza in Medicina e Chirurgia, conferitali il 27 giugno del 1840. Da giovane medico servì militarmente i Borboni, rimanendo nell'esercito fino al 1849. Nel 1848 la città di Messina si rivoltò all'allora re Ferdinando II di Borbone, che per risposta la fece bombardare pesantemente per quattro giorni dall'esercito del generale Filangeri. Alla fine il generale, anche a causa dei pochi mezzi disponibili e dell'elevato numero di feriti, ordinò che solo i soldati borbonici fossero curati e lasciati al proprio destino i feriti nemici. Palasciano però non obbedì a quest'ordine e iniziò a curare sia i propri feriti che quelli del nemico. Tale disobbedienza non restò impunita. Infatti il generale Filangeri portò Palasciano davanti al tribunale di guerra, perché si fece spontaneo custode della vita dei feriti delle file nemiche. Palasciano si difese dicendo che la sua missione di medico era troppo più sacra del dovere di soldato, ma soprattutto disse I feriti, a qualsiasi esercito appartengano, sono per me sacri e non possono essere considerati nemici. In queste parole pronunciate da Palasciano di fronte al tribunale di guerra troviamo l'origine del principio di neutralità dei feriti. Palasciano fu condannato alla pena capitale, ma la sua pena fu commutata dal re Ferdinando II di Borbone in un anno di carcere. Da allora Palasciano si impegnò attivamente per la salute dei militari, arrivando a dichiarare all'Accademia Puntaniana in un famoso discorso dell'aprile del 1861 bisognerebbe che tutte le potenze belligeranti nella dichiarazione di guerra riconoscessero reciprocamente il principio di neutralità dei combattenti feriti per tutto il tempo della loro cura e che adottassero rispettivamente quello dell'aumento illimitato del personale sanitario durante il tempo di guerra. Era nato il principio di neutralità dei feriti in guerra, recepito poi nella Convenzione di Ginevra.